Nonostante il maltempo hanno pensato bene di scendere su Diuno degli argini del fiume Arno a Firenze per osservare e studiare da un punto di vista diverso la città, ma non hanno fatto i conti con l'innalzamento del livello dello scolo della fognatura, rimanendo così bloccati su Diuna delle sponde dell'Ungarno Vespucci. Protagonisti di questa brutta avventura un gruppo di studiosi e professori italiani e stranieri in città per partecipare ad un convegno di architettura insieme ad altre persone. In nove sono rimasti coinvolti, altri colleghi hanno osservato la scena dalla spalletta. A metterli in salvo sono stati i vigili del fuoco giunti sul posto con due autoscale e nel giro di un'ora sono stati tutti recuperati. Sul posto anche il personale dei sommozzatori e i carabinieri. Fortunatamente nessuno ha avuto necessità di cure mediche e la vicenda si è conclusa con i ringraziamenti ai soccorritori. Prima però qualcuno non ha potuto trattenersi dallo scattare il classico selfie.